Ah, eccoci qua finalmente approdati al mare. In questa quinta tappa di Festival Show, Sottomarina di Chioggia, si accinge a prepararsi per questa ennesima puntata di grande musica e gran divertimento ovviamente con Festival Show. Questi sono i Camerini dove alloggiano i nostri artisti da Siria, Cecilia Gayle, ci spostiamo qui stasera Luca Barbarossa, Paolo Meleguzzi, Alberto Camerini, Nuovi Angeli, Dai Lavina, Ieffetto Doppler, che mi sembra siano questi qua. Ragazzi bentornati a Festival Show. Ciao a tutti, sono contenti di com'è andata a Pordenone che non potevamo non tornare anche a Sottomarina. Esatto. Un bel bis allora con Ieffetto Doppler questa sera a Festival Show. Ciao. Sempre tante belle modelle, insomma la bellezza a Festival Show non ce la facciamo mancare. Per esempio chiedo a questa bella ragazza, qual è il nesso tra la bellezza e lo spettacolo, la musica? Beh, la bellezza è arte, quindi anche spettacolo. Mi ha lasciato spiazzato. Beh, il soundcheck di Festival Show significa che gli artisti, i cantanti provano. Lui arriva dal cuore della Toscana a portare tutta la sua arte e la poesia, è Franco De Califfi. Da Firenze con tanto amore. Sì. Un saluto caldissimo, caldissimo, giusto no? Oggi ci sta. Sì, ci sta. Da Franco De Califfi a tutto il pubblico del Festival Show, a Radio Berichina, a grande Roberto Zanella e company. Bene, stasera anche con questo poeta. Stasera Festival Show, rimanete lì, eh? Grazie, ciao, a presto. Ciao, ciao. Queste altre due bellezze si occupano di censire tutti gli artisti che puntualmente arrivano a Festival Show. Allora, ragazze, ci sono tutti presenti stasera? Sì, tutti presenti. Siamo in attesa di Meneguzzi, Barbarossa, Siria, insomma, grandi nomi. Eh, sarà un'altra bella serata a sto punto. Bellissima, bellissima. Adoro Luca Barbarossa. Sono pazza di lui. Ha delle canzoni meravigliose. Bello, bello proprio. Proprio mi piace. C'è da giurarci. Va bene. E allora aspettiamoli sul palco di Festival Show. Ah, gran caldo oggi, ma d'altronde questa estate 2011, oltre al caldo, ci regala tanta bella musica e il bel pubblico di Festival Show. Tutti questi giovani che sono qua intraprendenti, che attendono l'inizio dello spettacolo. Ragazzuoli, ma allora siete qua per cosa? Per Festival Show! Eh, dai, andiamo a caccia anche di divisi un po' più conosciuti. Per esempio, il pre-spettacolo che ha affidato anche a questo personaggio qua, Pedro. Come andiamo, come andiamo qua? Come andiamo? Io sto andando a prendere una birra perché aiuta e poi tra qualche minuto si comincia. Una mezz'oretta cominciamo. Ah, perfetto. Oh, tra un po' a Festival Show. Grazie. Che bello, quanto fermento si respira qui a Festival Show. Stiamo per... Dove vai? Flavio, chiedo il mio... Dove va a... No, mi sbaglio sempre, sei qui. Dicevo, è un gran bel fermento qui dal backstage di Festival Show. Si inizia, eh, grandi artisti, è tra poco. Eh, perché poi i ballerini, se non li riempiamo per benino di calorie, poi non riescono a smaltire bene sul palco, no? Per forza, guarda te. Buon manino te, vuoi? Guarda te, guarda. Guarda te. Ok, io prendo questa. Guardate, a tempo zero è già ingrassato di un chilo e mezzo, signori. Perché anche la ciccia al Festival Show ci sta bene, ma sì. Ah, io ho deciso anche di godermi una sorta di pre-spettacolo molto particolare e me lo godo dal basso. Signori, sono le bellezze di Festival Show. Questa è fantascienza pura. E mi raccomando, massima puntualità, ordine perché Festival Show è uno spettacolo serio. Ma ragazzi, scusate, ma stavo solo facendo un complimento, aiuto. Beh, è sempre magia pura. Tutto ciò che scatena questa orchestra sinfonica italiana magistralmente orchestrata da questo signore che si chiama Diego Bass. Ma sì, ma è bello. Guarda, è una bella esperienza. È la prima che faccio, sono molto contento. I ragazzi sono veramente contenti perché comunque è una bella squadra. Ero sicuro che la squadra era vincente e forte. E sul palcoscenico si vede e si sente un'energia bellissima da Paolo a Stefano a Mariano, poi arriva Lola, poi insomma tutti i ragazzi, insomma la Summer Cue, i ragazzi dell'orchestra e il coro. Abbiamo fatto una grande famiglia. E questa è la cosa bellissima che ci fa divertire perché in questo mondo dove la musica vive in un momento difficile, dove non ci sono soldi, dove bisogna farlo per passione e per grande energia. E qui c'è dentro questa cosa ed è bellissimo. È vero, con tanta passione, con questa orchestra live fantastica festival show. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Allora, siamo in un camper particolare. Quello che prevede la preparazione anche dei presentatori e quindi Paolo Baruzzo a Chioggia. Anche qui a scovarlo, a pochi minuti dall'inizio, stavo dialogando con il nostro fotografo Gianfranco Prusagani. Eccolo, anche lui è pronto a scattare, a scattare centinaia di foto ricordo di questa serata che sarà straordinaria. Quinto appuntamento con festival show a Sottomarina. Siamo al giro di boa del nostro tour con Paolo Meneguzzi, i Lavinia che presenteranno in anteprima il loro nuovo singolo. Avremo Luca Barbarossa, Serena Abrami da Sanremo. Tanta musica, tanto divertimento. Tutto questo ed oltre ovviamente a festival show vi divertirete anche stasera. Promesso è parola di Paolo Baruzzo, di Claudio. Tranquilli, buona visione. Di Gianfranco. Ah, che piacere. Io mi ritrovo con una storica conoscenza di festival show e Gisella Donadoni che torna a trovarci. Ciao. Ciao a tutti, ben ritrovati. Quest'estate ho un po' ritardato a causa impegni lavorativi ma adesso finalmente sono qui al festival show e quindi è iniziata la mia vera estate, come sempre. Ti godrai una bella tappa al mare qui a Sottomarina. Devo dire che mi sono già goduta oggi la giornata, bellissimo mi sono applozzata, come potete vedere mi sono goduta il mare e adesso mi godrò questa bellissima serata di grande musica e di grande spettacolo in mezzo a tanti amici. Perché tutto questo è festival show. Grazie, ciao. Allora, io so che lei tra una tappa e l'altra di festival show si cerca di scappare, si gode anche le sue ferie. Adesso da dove arrivi? Dici un po', Lola. Dalla Sardegna, che era incredibile. Pieno di gente, estate piena, tanti amici, però l'estate non ti fa dormire. E' vero. Dal mare Sardo si è arrivata al mare Veneto di Chioggia, di Sottomarina. Che meraviglia, che meraviglia, sono felice di essere qua. Sei pronta allora a questa quinta tappa di festival show, tanta grinta? Siempre, sempre, sì, assolutamente. Faremo una serata meravigliosa, quindi felice di stare qua nel Veneto, che è una terra che amo. Allora, Lola Pons sul palco, si inizia! Ciao! Tutto ciò che vedete è artificiale, compreso io, eh? Leggete cosa c'è scritto qui, Summer Crew è il corpo di ballo di festival show. Allora, facciamo una bella irruzione qua. Attenzione, attenzione. Eccoli, eccoli, eccoli. Almeno una parte piccola, ma la degna rappresentanza è sempre qua, Etienne. Ma la cosa più bella è che sono queste cose così improvvisate, che noi non ci siamo trovati prima. Voi non sapete, non ci siamo trovati prima. E tu, preparate. Facciamo una cosa così, mettiamoci in camerino, tu apri la porta. E poi sorriso tutto. E io sorriso tutto molto fintissimo. Vabbè, saranno finti, sono una cosa. La sua legna guarda, devo andarmi a ritruccare di nuovo. Grazie Etienne, ciao. Allegria. Ah, ma che bella sorpresa. Sono qui con Paolo Meneguzzi, grande ritorno a festival show. Ciao Paolo. Ciao, ciao, sono felicissimo di essere tornato. Allora, Paolo, so che si presenta, insomma, con delle belle novità in questo 2011. C'è un nuovo singolo. Ci sono tantissime cose, un nuovo singolo, un best of, con tutte le mie canzoni più importanti. Poi c'è un libro che è appena uscito, un romanzo che racconta la mia vita. E poi c'è l'uscita in America, negli Stati Uniti, quindi da settembre volerò in America promuovere la mia musica in spagnolo. Ah, allora, raccogliamo un po' di suggerimenti anche qui in mezzo al fantastico pubblico di festival show. Signora, buonasera, si sta divertendo? Sì, sì, mi sto divertendo. Allora, aspetta qualche cantante in particolare. Paolo Meneguzzi. Le piace? Sì, sì, molto, molto. Buon divertimento. Grazie. Cari amici da casa, buonasera, ci risiamo con festival show. È una quinta tappa esuberante. Grande musica, grande spettacolo anche questa sera qui da Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia. A parte dunque, festival show è sempre con questo grande pubblico. A parte dunque, festival show è sempre con questo grande pubblico.